onestamente abbiamo giocato male e più c'è stato un pizzico di sfortuna nell'occasione del gol queste sono partite purtroppo che subisce un tiro in porta come abbiamo subito noi abbiamo perso la partita in queste partite qua devi giocare bene devi giocare meglio di quello che abbiamo fatto noi soprattutto nella fase offensiva e quindi l'analisi è anche semplice non dobbiamo nasconderci dietro le scelte o nasconderci abbiamo giocato male la fase offensiva non è stata buona e quindi non dobbiamo far altro che metterci là sotto a lavorare non è morto nessuno e andare avanti dal punto di vista della prestazione abbiamo fatto un passo indietro però questo non cambia ci sta in un campionato non è una cosa così eccezionale è una cosa che può capitare comunque questi ragazzi sono sempre loro hanno quasi sempre giocato gli stessi non è una scusa ma percepivo prima della partita che c'era un po' di stanchezza e quindi in una fase del campionato così alla terza partita una partita così contro una squadra chiusa in cui dovevi star bene fisicamente noi non eravamo brillanti e abbiamo perso per questo fondamentalmente grazie grazie a tutti